Sono la principessa Latte e niente mi spaventa. I ricci sono creature solitarie. Va tutto alla grande, io so badare a me stessa. Abbiamo un serio problema. È una questione di tempo prima che la fonte si prosciughi del tutto. Un valoroso eroe dovrà attraversare la foresta e ritrovare la preziosa pietra magica che riporterà l'acqua alla fonte. È solo una stupida pavoletta. Ci andrò io. Oh, il piccolo riccio è più pazzo del vecchio corvo. Un semplice grazie può bastare. Siete pronti per una fantastica avventura? Qui è pieno di pericoli. Ci sono animali selvatici ovunque. Che cosa è pericoloso? Non vedo nessun... Due piccoli amici. Un minuscolo riccio e uno sciocco scogliattolo vogliono ritrovare la pietra magica. Ah sì? Aspetta e vedrai. Ce la farò. Io prenderò quella pietra. Forti e coraggiosi. Latte, attenta! Uniti più che mai. Dovrete restare sempre insieme. Lascia stare il mio amico. Dovrai vedertela prima con me. Mi manca la mia famiglia. Non preoccuparti, ce la faremo. La pietra è mia. Ok, questo sì che è strabiliante. Tu sei il migliore. Latte e la pietra magica. Siamo forti o siamo forti? Dal 30 settembre al cinema. Ecco alcuni contenuti per i più piccoli su Apple TV+. Helpsters, show con protagonisti Cody, un team di pupazzi che amano risolvere i problemi. Snoopy nello spazio, con il famoso Snoopy preso dal sogno di diventare astronauta e Ghostwriter, in cui i quattro bambini fronteggiano il fantasma che infesta una libreria. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e attivate la campanellina. Ciao da Wendy!